Grazie a tutti. Signora Presidente, signori consiglieri, Amadeo Benigni assente. Bruni, Camerlingo, Carretta, Cassina, Ceci, D'Aloia, Assente, De Rosa. Consigliere De Rosa deve confermare la presenza. Deligios, Einard, Fracassi, Gallone, Assente. Gori, Gregorelli, Magni, Marchesi. Milesi, Minuti, Nespoli, Ungaro. Paganoni, Pecce, Ribolla, Assente. Riccardi, Rota, Russo, Cerra. Tentorio, Tognon, Assente. Tremaglia, Vergalli, Zenoni, Ribolla. Presenti 29 consiglieri. Allora, bene, ben arrivati a tutti. Partiamo con questo consiglio, primo del mese di ottobre, con la trattazione della delibera numero 112, modifica del regolamento delle entrate, istituzione delle tariffe, rimborso spese di sopralluogo e notifica. La parola al vice-sintaco Gandhi. La delibera ha un taglio eminentemente tecnico e ringrazio chi l'ha predisposta. Mi riferisco all'ufficio Tributi. Credo che siano presenti sia Marco Mirandoli che l'architetto Cimino. Li ringrazio entrambi perché le due delibere di cui trattiamo stasera in apertura del consiglio sono frutto di un lavoro esquisitamente tecnico e prettamente tecnico da loro condotto in prima persona ma che dal mio punto di vista riveste anche un'utilità in generale per la città e quindi per i cittadini. Questa prima delibera è molto semplice. Di fatto concerne le spese di istruttoria che devono essere sostenute allorché qualcuno, un operatore del mercato, faccia richiesta di installazione di un nuovo impianto pubblicitario perché l'amministrazione o meglio l'ufficio preposto dia l'ok è indispensabile che venga verificata la sussistenza dei requisiti che stanno scritti sostanzialmente nel codice della strada e che devono essere vagliati tecnicamente anche in loco e quindi viene effettuata un'istruttoria che è documentale ma anche un'istruttoria effettuata in loco attraverso un sopraluogo. Si tratta di attività che impegna i nostri tecnici ragione per cui è corretto dal mio punto di vista chiederne conto a chi, all'operatore del mercato, che intenda che abbia presentato l'istanza di installazione dell'impianto. Ha anche un intento deflattivo, cioè benché il costo sia minimo perché parliamo di 100 euro, induce chi formula l'istanza a farla se effettivamente ritiene di ravvisarne i presupposti. Quindi c'è un primo vaglio che magari lo stesso operatore viene indotto a compiere prima che l'istanza venga presentata e che l'istruttore abbia inizio. La delibera che appunto contiene una proposta di modifica del regolamento delle entrate in questo senso contiene anche un'altra modifica del regolamento delle entrate, cioè quella che prevede che vi siano spese di notifica addibitate ai destinatari di accertamento tributario e di emissione di ingiunzioni per il recupero della COSAP, cioè del canno di occupazione solo pubblico. Al momento queste notifiche non sono espressamente disciplinate quanto alle spese ad esse conseguenti e poste a carico di chi subisce l'accertamento. Anche di questo si prevede l'introduzione del regolamento delle entrate, mi paiono norme di buonsenso che meritano, al mio punto di vista, di avere, se possibile, la vostra approvazione. La parola al Consigliere Tentorio. Un breve intervento che inevitabilmente ricalca quello che è stato fatto in Commissione. L'introdurre un onere per l'esame delle istanze di rinnovo-rilascio di nuove autorizzazioni è sempre un elemento che dà un minimo di perplessità, specie all'opposizione. Però l'entità contenuta dell'importo e soprattutto la convinzione che così sia possibile fare dei controlli effettivi sulla esatta correttezza di questi impianti, problema che come meglio vedremo forse nella prossima delibera è un problema esistente e che già negli ultimi mesi del nostro mandato avevamo riscontrato, ci inducono ad un voto favorevole. La parola al Consigliere Ribolla. Grazie Presidente. Questa delibera ha una duplice finalità dal nostro punto di vista, quella di rendere come ha detto l'assessore più consci i richiedenti nel formulare le domande di rinnovo e dall'altro però non è stato detto e mi auspico che sia così e chiedo all'assessore che il rinnovo venga effettivamente sempre verificato ai fini sia del codice della strada che delle altre normative perché effettivamente ad oggi c'è un po' una giungla di cartelli se non ho capito male dalla lettura della delibera e guarda principalmente i cartelli pubblicitari e sappiamo che ce ne sono anche molti abusivi poi ovviamente chi mette i cartelli in modo non abusivo viene a lamentarsi da noi e quindi ha auspico che con questa delibera si possa effettivamente procedere ad un controllo mirato e ad una riorganizzazione appunto degli impianti pubblicitari che sono sottoposti al controllo dell'amministrazione comunale sulle strade di pertinenza comunale. Grazie. Non ci sono altri presenti per cui do la parola al Vice Sindaco Gandhi. Vi rubo solo un secondo per darvi conto di qualcosa che è già emerso in Commissione cioè da un lato che le verifiche ci sono, tant'è vero che ci sono una serie di ordinanze adottate dagli uffici nei confronti delle installazioni abusive che sono secondo me in crescita nell'ultima fase. Quello, l'ho già detto, è un mercato particolare per cui bisogna avere particolare attenzione perché c'è una certa attratti di disinvoltura anche da parte degli operatori e richieste ai limiti dell'impossibile che vanno considerate per quel che sono. La seconda cosa è che, non so se posso anticiparlo, aspetto un cenno del capo positivo da parte di Marco Mirandoli ma di fatto gli uffici stanno lavorando ad un nuovo piano relativo agli impianti pubblicitari che sia una razionalizzazione della loro collocazione senza ovviamente conculcare il diritto acquisito di nessuno sia una razionalizzazione del profilo regolamentare, quindi normativo, che disciplina sul piano comunale queste installazioni e gli oneri ad esse conseguenti. Quindi anche la sollecitazione del Consiglio di Bolla mi sembra positiva e io la colgo favorevolmente perché gli uffici stanno già operando in questo senso. Quindi li ringrazio anticipatamente. Grazie per dichiarazione di voto. Metto in votazione la delibera numero 112. Metto di minuti. Votazione apposta. Passiamo all'esame della delibera numero 113. Modifica del regolamento delle entrate ai fini dell'affidamento in concessione della riscossione del canone di occupazione spazi e aree pubbliche. La parola al Vice Sindaco Gandhi. Allora, vorrei aprire la presentazione di questa delibera con un dato che però non è direttamente connesso ma secondo me serve a spiegare il taglio e la natura della delibera che oggi andiamo ad esaminare e a votare. È un dato emerso in questi giorni, quello secondo cui il Comune di Bergamo è il Comune più efficiente in Italia per quel che riguarda il contrasto all'evasione fiscale, soprattutto per la parte che ha un impatto sull'erario, quindi su profili di carattere nazionale. La collaborazione con l'Agenzia delle Entrate si produsse nel 2008, all'epoca l'assessore era Dario Guerini e ha continuato ad operare con grande efficacia in tutti questi anni, oltre dieci anni, fino all'anno in corso. Nel 2017 va detto che tutto quello che viene recuperato sulla base delle segnalazioni che il Comune di Bergamo, incrociando le banche dati e lavorando sui dati di cui è in possesso, fornisce all'Agenzia delle Entrate, queste segnalazioni generano poi accertamente quindi una riscossione e un gettito che viene interamente girato al Comune di Bergamo. In generale viene girato i Comuni che collaborano con l'Agenzia delle Entrate per recuperare l'evasione e l'illusione. Nel 2017 il Comune di Bergamo ha di fatto contribuito e ha recuperato oltre mezzo milione di euro. In dieci anni, collocandosi peraltro al sesto posto in Italia, in termini assoluti, in dieci anni dal 2008 al 2017 il Comune di Bergamo ha recuperato oltre 4 milioni e mezzo di euro. che di fatto sono un terzo del budget del settore coesione sociale per un'annualità, oggi come oggi, quindi sono tante risorse. E si colloca al quarto posto in termini assoluti in Italia, dopo Milano, Genova, Torino, ma di fatto è la prima città di provincia di media grandezza in questa graduatoria. E di fatto, siccome in termini assoluti viene dopo grandi città, se consideriamo il dato pro capite, considerata che la nostra popolazione è certamente non paragonabile alle altre città che ho citato, Milano, Torino, Genova, è la più alta in Italia. È un dato che ha fornito CGA in questi giorni e che poi è stato ripreso anche dai media locali. Ovviamente questo non è un merito dell'assessore in carica, il quale può avere politicamente sostenuto il tema, ma è un merito di chi ha avviato il processo nel 2008, mi riferisco all'assessore Guerini, a chi l'ha efficacemente portato avanti in questi anni, tutti gli assessori tributi che si sono succeduti, ma in particolare dell'ufficio tributi che ha mostrato su questo tema una particolare efficienza. Adesso, per esempio, la frontiera che stiamo un po' valicando, in questa fase, ne abbiamo parlato qualche mese fa con l'Agenzia delle Entrate, ma poi le cose sono andate avanti, riguarda l'eterovestizione, cioè tutti quei soggetti che in realtà sembrano non risiedere nel territorio comunale, nel territorio italiano e quindi non versano alcunché al nostro erario e poi in realtà di fatto risiedono sul suolo nazionale e quindi sarebbero in realtà tenuti a versare rispetto ai loro redditi le imposte conseguenti, cosa che non succede. Quindi, a partire ad esempio dai controlli sui veicoli con targa straniera, i nostri uffici, lattamente intesi, hanno operato in questo senso, dando via a un nuovo canale di verifiche. Allora, questo per dire cose che il Comune di Bergamo ha puntato molto, ma in questo caso io parlo dell'IRPEF e delle imposte di cui è responsabile l'Agenzia delle Entrate, ma un lavoro di altrettanta efficienza viene condotto annualmente, ad esempio, sull'IMU, sull'imposta immobiliare, sulla quale ogni anno i nostri uffici riescono a fare un grande lavoro e in corso d'anno recuperano una parte del tributo evaso, estendono la base imponibile, garantendo poi, per gli anni successivi, un gettito maggiore al Comune di Bergamo. Se gli uffici si concentrano su queste grandi partite, è evidente che possono dedicare meno tempo, comunque sarebbe auspicabile che si concentrassero sulle partite fondamentali, non che le altre non abbiano importanza, ma sono quelle che sono emblematicamente più significative e che poi che rendono al Comune di Bergamo entrate sicuramente maggiori e più significative e quindi danno anche un sostegno al bilancio rispetto ad altre partite di rilevanza superiore. Se questo fanno e questo devono fare i tecnici dell'ufficio tributi, è auspicabile che altre attività possano essere, non debbano necessariamente, ma possano essere affidate a soggetti terzi che magari vi dedichino maggiori energie di quelle che, essendo impegnato su altri fronti, lo stesso ufficio tributi può garantire. Mi riferisco in particolare alla seconda delibera, con la quale si chiede una cosa molto semplice, più delicata rispetto ai contenuti della delibera precedente, su cui anche in Commissione abbiamo discusso un pochino di più, e cioè la possibilità, e quindi la modifica del regolamento entrate in questo senso, la possibilità di affidare a un concessionario, esattamente come oggi avviene per le imposte sulla pubblicità, anche la riscossione del canone per l'occupazione del suolo pubblico, quindi della COSAP. È una facoltà che il Comune di Bergamo, attraverso questa modifica al regolamento delle entrate, si attribuisce, ma non è una necessità, quindi l'idea è quella che si possa provare a farlo, a sperimentare questa strada, poi vi spiego anche quelle che possono essere le ragioni, che vedete anche elencate in delibera, per la quale potrebbe rivelarsi uno strumento efficace. Si può sperimentare, provare questa nuova strada, affidando al concessionario la riscossione della COSAP. Ovviamente la gara e quindi l'appalto di servizi che ne conseguirà avranno una durata limitata nel tempo, all'esito della quale si potranno fare tutte le verifiche e tirare le somme per capire se è stata una scelta appropriata e quindi merita di essere reiterata, o se invece ha sortito effetti non in linea con le aspettative o addirittura non positivi, a quel punto ritornare a una gestione diretta della riscossione. Quali sono i vantaggi che possono assommarsi a quello che vi ho malamente esposto? Sono il primo luogo che oggi l'amministrazione comunale è chiamata ad occuparsi di questo tema, del canone di occupazione suolo, nell'ambito di tre distinti settori. Il commercio che fa l'istruttoria e rilascia l'autorizzazione, i tributi che riscuotono di fatto il canone e la polizia locale che fa le verifiche in loco per verificare se effettivamente le attività sono state autorizzate e non lo sono e nel caso non lo siano adottare i conseguenti provvedimenti. Quindi spesso e volentieri anche chi formula l'istanza si trova da un lato, non sempre gli uffici riescono ad operare in piena e perfetta sintonia e quindi non tutte le attività in questo senso riescono ad essere gestite efficientemente dai tre settori in maniera congiunta. In secondo luogo anche l'operatore, la persona fisica o giuridica che formula l'istanza deve dividersi tra tre diversi interlocutori a seconda delle fasi del rilascio e poi del pagamento della COSAP. Quindi c'è anche sottesa un'esigenza di semplificazione nei confronti del cittadino. Ecco, evidentemente siccome voi sapete che soprattutto per chi ha ricoperto appunto ruoli amministrativi esiste anche un margine di elasticità che il regolamento concede all'organo amministrativo, quindi alla Giunta allorché autorizza l'occupazione di suolo nel identificare come classificare la manifestazione, in alcuni casi decidere per un sostegno alla manifestazione che in qualche modo riduca l'onere a carico di chi la organizza. Ecco, questa elasticità non viene eliminata perché di fatto l'istruttore rimane in capo all'ufficio fino al rilascio e quindi l'interlocuzione che sempre esiste ed esisterà in base al regolamento tra l'organo politico istituzionale e gli uffici che se ne devono occupare lo devono tradurre tecnicamente continuerà ad essere simile a quella odierna. Comunque il bando si preoccuperà di definire il perimetro entro il quale l'operatività del concessionario andrà a collocarsi. Potrà essere creato un unico sportello di ricevimento del pubblico per la ragione che vi ho detto, il referente sarà uno e non tre distinti dentro l'amministrazione. Il fatto che ci sia ovviamente un agio, quindi un ritorno economico per l'operatore calcolato sui canoni incassati stimolerà l'operatore ad effettuare il monitoraggio e il controllo in maniera più diffusa e articolata di quanto magari oggi i nostri organi amministrativi non riescano a fare. Voi pensate che la Polizia Locale ha mille attività a suo carico e non riesce a essere sempre puntuale in queste verifiche e quindi affidarla a un terzo che ha un interesse specifico ad avere il ritorno economico che spetta all'amministrazione e anche essa in termini di agio può determinare controlli più precisi e frequenti e quindi ridurre il tasso di abusivismo e ridurre anche il tasso di evasione del canone che in alcuni casi raggiunge livelli assolutamente inaccettabili. C'è un tema di tempi e quindi di tempi celeri e di fatto una sorta di uniformità delle procedure perché ad occuparsene sarà un unico soggetto e non tre diversi articolazioni della stessa amministrazione. Ripeto, potrà essere, potrà, non necessariamente dovrà perché sarà poi l'amministrazione a decidere se utilizzare o meno questa possibilità dovrà essere redatto il bando che forse è già in corso di predisposizione che sarà attentamente valutato affinché appunto contenga nei limiti corretti l'attività che sarà affidata al concessionario ovviamente avrà una durata una durata limitata nel tempo qui si indicano sei anni rinnovabili per altri sei ma non necessariamente rinnovabili all'esito di quel periodo sarà possibile come dicevo fare una valutazione e verificare se l'esperimento ha avuto il successo sperato se invece sia più giusto e tornare a una gestione alternativa o meglio quella attuale cioè diretta dei temi della riscossione. Questo è quanto e vi ringrazio. Grazie, apro la discussione e la parola al Consigliere Tentorio Questa è una delibera che a nostro soggettivo parere ha degli aspetti che possono essere positivi e degli aspetti che possono essere negativi tutto starà a vedere il testo del bando e tutto starà a vedere i controlli che l'amministrazione comunale dovrà continuare a fare riguardo al funzionamento di questa nuova modalità di accertamento e di riscossione. Il fatto di affidarsi a un terzo specializzato non è di per sé negativo soprattutto se la durata sarà abbastanza breve e quindi consentirà una verifica al termine della stessa pronti se del caso a tornare indietro qualora se ne riscontri l'opportunità e purché l'aggio sia sufficientemente contenuto. Perché dico che è una delibera che può avere degli aspetti positivi e anche degli aspetti negativi. Gli aspetti positivi sono senz'altro quelli di affidare ad una società professionalmente impegnata in questo settore tutta la gestione con la possibilità di avere un unico sportello e probabilmente anche dei controlli più accurati. Controlli che senz'altro la società farà riguardo ad eventuali affissioni abusive è oggettivamente temibile che invece di fronte ad una irregolarità di dimensioni o di collocamento dell'impianto da parte di operatori che però continuano a pagare il loro diritto il loro onere alla società ci possa essere una minore attenzione. io non voglio assolutamente pensare male però è anche opportuno non porre gli imprenditori nella condizione di fare peccato. Per queste motivazioni cioè in attesa di conoscere il bando perché questa è una possibilità che l'amministrazione concede e quindi in attesa di conoscere se e quando darà corso a questa possibilità di conoscere il relativo bando e di avere una sensazione positiva riguardo ai controlli che l'amministrazione deve continuare a fare direi che il nostro voto può essere un voto di attesa cioè un voto di astensione. Grazie Presidente come ho già detto in commissione in linea di principio io sono per la riscossione diretta da parte degli uffici il voto favorevole che annuncio è come dire un voto di fiducia rispetto agli uffici per i quali il problema del monitoraggio del seguire tutti queste l'esazione dei tributi di occupazione del suolo pubblico comporta ritardi che fanno sì che in molti casi come è stato detto molti de or non faccio i nomi che erano stati detti in giro da tempo da molto tempo non pagano i dovuti tributi mi sembra che sia una proposta sperimentale e come dire è un voto di fiducia agli uffici che ritengono che la esazione attraverso un ufficio specializzato può sia accelerare che aumentare i tributi ed eliminare tutte le tacite evasioni innumerevoli che ci sono per questi motivi il nostro voto è favorevole non ci sono altri interventi per cui metto per dichiarazione di voto metto in votazione la delizia 113 manca il voto di Paganoni votazione approvata votiamo l'immediata eseguibilità grazie manca il voto tentorio fracassi ceci mi lesi Grazie. 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 Abbiamo dei problemi con la votazione, con il sistema nuovo di votazione. Grazie. Grazie. Votazione approvata. 20 favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti. Diamo lettura dei contrari e degli astenuti. Contrari Gregorelli Zenoni, astenuti 3 maglie a peccio ribolla De Rosa minuti, tentorio Ceci. Passiamo all'analisi della delibera numero 111, approvazione dell'ipotesi di atto integrativo dell'accordo di programma promosso dal Comune di Bergamo, con la partecipazione alla provincia di Bergamo della Fondazione Casa di Riposo Santa Maria Auxiliatrice, finalizzato alla realizzazione di nuova residenza sanitaria e assistenziale. La parola all'assessore Zenoni. Chiedo però a chi in aula di stare in silenzio per ascoltare la relazione del... L'accordo di programma... Allora, per piacere il pubblico sa che non si può far vedere cartelloni e parlare, per piacere potete togliere cartelloni, abbassare i cartelloni? Scusate, se continuate a esporre i cartelli e a parlare, devo sospendere il Consiglio perché impedite al Consiglio stesso di lavorare. Sospendiamo il Consiglio comunale. Grazie. 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 Allora, chiedo al pubblico se può ritirare i cartelli e risedersi per permetterci di riprendere i lavori del Consiglio. in caso contrario, in caso contrario, devo chiedere alla Polizia Urbana di allontanare i manifestanti. In questo momento siete sicuramente cittadini che state però impedendo all'organo deliberativo del Comune di svolgere il proprio lavoro. Per cui... Allora, non è questo il luogo, deputato. Allora, chiedo... Prego. Grazie. 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 La delibera in oggetto riguarda l'approvazione dell'ipotesi dell'atto integrativo all'accordo di programma promosso dal Comune di Bergamo con la partecipazione della Provincia e della Fondazione Casa di Riposo Santa Maria Ausiliatrice Onlus, eccetera, eccetera. In buona sostanza, come è stato illustrato in Commissione, si tratta dell'accordo di programma Gleno, così conosciuto comunemente, dell'accordo di programma che ha approvato ormai nel lontano 2009 e ha portato alla realizzazione della struttura sociosanitaria, del rinnovo e della realizzazione della struttura sociosanitaria in via Gleno che tutti voi conoscete. Una fondazione, peraltro, di cui il Comune di Bergamo, insieme alla provincia, come sapete, è socio fondatore e che ha portato quindi alla realizzazione di un'importante risorsa per il territorio bergamasco. Il motivo per cui si presenta oggi, i motivi, anzi sono due, quelli principali per cui oggi si presenta un atto integrativo in questa sede per l'approvazione del Consiglio Comunale, sono i seguenti. Il primo è che, passati nove anni circa dall'approvazione di questo accordo di programma, si dà conto dello stato d'attuazione, che ovviamente non è completo, nel senso che, come sapete, l'accordo di programma originario prevedeva la parte dedicata alla struttura sociosanitaria e un'altra porzione con delle volumetrie cosiddette profittevoli, ovvero in buona sostanza residenziale, terziario e commerciale. Ed è quella la parte che sostanzialmente non si è attuata, mentre invece sull'intervento della struttura sociosanitaria, come sapete, il percorso si è sostanzialmente compiuto. Quindi si dà atto di questo stato di attuazione e si chiede sostanzialmente una dilazione, un prolungamento dei tempi, che a questo punto vengono rinnovati per ulteriori dieci anni, onde consentire l'evoluzione di questo accordo di programma. Il motivo invece più importante, a mio parere più interessante, è che la fondazione Gleno, la fondazione Santa Maria Ausiliatrice, chiede di convertire 7.000 metri quadrati di SLP, che erano originariamente previsti a funzione residenziale, in una nuova struttura sociosanitaria dedicata in particolare alla cura dei malati di Alzheimer, quindi una patologia certamente conosciuta e purtroppo molto presente, anche per l'invecchiamento della popolazione, ma insomma un tema sicuramente sentito. Quindi la richiesta della fondazione di fatto di convertire 7.000 metri quadrati di residenziale profittevole in un'ulteriore espansione delle dotazioni di servizio della struttura sociosanitaria in questione. Tema sicuramente interessante e non isolato, mi permetto di dire, nel senso che è stato dato conto durante la presentazione in commissione, lo trovate anche nel verbale del collegio di vigilanza che ha preceduto il passaggio consigliare, è stato dato conto della volontà di attuarsi poi successivamente nel corso dei prossimi anni della fondazione di immaginare una progressiva conversione delle superfici pensate in origine come profittevoli per ulteriori espansioni della struttura sociosanitaria. Nel verbale trovate, come dire, l'opinione del Presidente, radici, avete sentito, almeno i commissari della terza commissione hanno sentito dal vivo le parole del direttore, quindi c'è la volontà progressiva da parte della fondazione di immaginare ulteriori espansioni dei servizi sociosanitari a sottrazione o a trasformazione, per meglio dire, delle superfici che erano invece pensate come profittevoli. Questo non avviene oggi perché i tempi non erano maturi per una revisione completa di questo accordo di programma e perché l'ha spiegato molto bene il direttore della fondazione, uso quindi in maniera parafrasata le sue parole, in questo momento le dotazioni volumetriche complessive dell'accordo di programma garantiscono una funzione di fideiussione, chiamiamola così, o di garanzia rispetto ai prestiti, ai mutui e agli investimenti che la fondazione ha fatto nel corso del tempo. Quindi c'è la volontà di questa progressiva modifica, non la trovate scritta in questo atto integrativo, se non, e credo che comunque sia una notizia importante, per i 7.000 metri quadri della nuova struttura per l'Alzheimer. Questo è quanto, ho visto che sono stati presentati due ordini del giorno collegati, per cui mi fermo qua e lascio la parola a chi di dovere. Grazie. Grazie, se sono la parola alla consigliera Pecce per presentare i due ordini del giorno collegati. Durante la seduta di commissione avevo espresso due dubbi e questi due dubbi sono meglio chiariti nei due ordini del giorno che adesso vado a presentare. Il primo tratta della situazione e dell'allocazione dei richiedenti asilo presso la casa di riposo Maria Ausiliatrice. Da quello che ci risulta ci sono circa 300 richiedenti che sono allocati in uno stabile che era in disuso, è stato riattato e adeguato ed è stato dato in affitto a chi gestisce l'accoglienza. Questo stabile, si diceva, avrebbe dovuto essere abbattuto in contemporanea alla realizzazione degli interventi successivi, sempre nell'area della casa di riposo Santa Maria Ausiliatrice. E quindi si era parlato di una permanenza temporanea anche in rapporto all'abbattimento dello stabile. Il Consiglio Comunale però non ha avuto precisazioni su questa realtà, non abbiamo mai parlato in Consiglio e neanche in commissione. Quindi le informazioni dettagliate che io ritengo utili a chiarire la situazione, devono essere precisi e aggiornati ovviamente questi dati, riguardano lo stato di fatto circa la situazione attuale e circa la prospettiva futura della gestione, del numero di richiedenti asilo presenti, della capienza massima consentita, del contratto d'affitto tra gestori e fondazione e delle eventuali interferenze con i prossimi lavori di allargamento legati alla realizzazione della nuova residenza sanitaria assistenziale. Questo sarebbe opportuno per tutto il Consiglio, non so se si vuole invece offrire questa audizione, questa specifica, in una commissione. Per quanto riguarda l'altro ordine del giorno, riguarda appunto l'osservazione che anche in commissione avevo fatto a proposito della particolare visuale che si ha in questo ambito di riqualificazione urbanistica futura e la grande quantità di metri cubi che sono previsti comunque in questo documento che tra l'altro andiamo ad approvare oggi. Nell'atto integrativo infatti sono presenti non soltanto il progetto e la realizzazione di una nuova residenza sanitaria assistenziale, ma si prevede anche un'altra riqualificazione urbanistica territoriale e ambientale, proprio delle aree ubicate sempre in Via Gleno ma anche in Via Zanica. Quello che interessa a noi questa sera discutere è in particolare quello che riguarda la cosiddetta UMI 2B di Via Gleno dove sono previsti circa 122.000 metri cubi tra residenziale, terziario e commerciale che sono in parte sono quelli che verranno utilizzati appunto per il nuovo centro sociosanitario, in parte, in grandissima parte, sono invece quelli sui quali si prevede la possibilità sia di vendita terzi e quindi di sviluppo anche di nuovi progetti, sia invece la costruzione sempre di strutture di carattere sociosanitario che potrebbero essere decise dalla stessa fondazione. Anche in commissione io stessa avevo già ribadito che sarebbe una cosa molto interessante se qui si potesse andare verso questa direzione. Però, comunque sia, dato che i volumi sono molto importanti e in un modo o nell'altro, magari solo parzialmente, magari totalmente invece, andranno realizzati, dato che ci troviamo in un ambito paesaggistico, dicevo anche in commissione che tra i pochissimi che fanno vedere la chiostra delle montagne e hanno un panorama di vasto respiro, si chiede, in sostanza, al Consiglio di sottolineare, visto che ci sarà appunto uno sviluppo urbanistico della città anche in questo settore, quindi di esprimere un'indicazione di indirizzo che salvaguardi il patrimonio paesaggistico. Quindi, un invito a che nell'ambito della riqualificazione, compresa appunto nell'atto integrativo di oggi, dell'accordo di programma di oggi, si tenga conto in maniera importante, quindi questo è un suggerimento, spiega l'ordine del giorno, da un'indicazione, però resta comunque agli altri, in modo tale che quando sarà il momento di progettare edifici o strutture si rifletta in modo molto importante, come dicevo anche prima, di non costituire un impatto dissonante con l'ampiezza e la bellezza del luogo, ma anzi che queste strutture possano esaltarne la particolarità. Non ho voluto discutere sulle altezze, come abbiamo già accennato in commissione, ma semplicemente di un futuro architettonico armonizzato alla natura e al paesaggio del luogo. Grazie. Grazie. Discussione? Chiudo la discussione perché non si iscrive nessuno. Assessore, vuole parlare? Per dichiarazione. La do la parola all'assessore Zenoni. Ma solo sul secondo ordine del giorno. Io sinceramente, pur capendo lo spirito della consigliera, lo trovo, come dire, non opportuno in questa fase, nel senso che oggi non stiamo rivedendo la progettazione della restante parte dell'ambito e non lo farà nemmeno verosimilmente questa amministrazione in questo mandato, tra l'altro, visto che siamo appena giunti a questo accordo integrativo. La parte conclusiva dell'ordine del giorno, laddove si fa riferimento a edifici che non impattino con l'ampiezza e la bellezza del luogo, chiedo scusa, mi sembra estremamente soggettiva come valutazione, nel senso che non credo saremmo d'accordo esattamente sul tipo di progettazione che non impatta o coimpatta, nel senso che altre volte, e anche in parte in commissione, senza polemica, devo dire, ma c'è stata una discussione con opinioni leggermente diverse su quanto fu deciso all'epoca e su quanto eventualmente potrebbe essere deciso il futuro. Io sinceramente trovo che, anzi, l'ordine del giorno rischia di creare, forse un malinteso inutile, rischia anche forse di alimentare il sospetto che, forse che non è un sospetto, ma è una certezza da parte della consigliera, che la progettazione fin qui seguita non ha rispettato questi valori, e quindi rischia, come dire, nel rapporto anche con la fondazione, io credo di anticipare una discussione che si farà al momento debito e che tra l'altro coinvolge anche la commissione edilizia, la commissione paesaggio, quindi tutta una serie di enti che all'epoca espressero un parere e lo esprimeranno in futuro quando arriverà il progetto effettivo. Quindi non lo ritengo un ordine del giorno critico assolutamente, nello stesso tempo non mi sentirei, ma ovviamente i consiglieri sono liberi di fare le loro valutazioni e non mi sentirei in questo momento di prendere un impegno così generale generico. Grazie. Per dichiaro di voto, La parola è il consigliere Ungaro. Grazie, Presidente. Sì, sull'oggetto della delibera che sono essenzialmente due, una la conversione di una SLP originariamente destinata ad edilizia privata in destinazione sociosanitaria per la costruzione di un padiglione Alzheimer, uno è questo e l'altro è la proroga dell'accordo a suo tempo stipulato con la Fondazione Maurio Asiliatrice. Sul primo punto credo che non ci debba essere nessun dubbio. Sul secondo punto che è la proroga di questo atto credo che anche su questo noi esprimiamo voto favorevole. Riguardo ai perché ripeto mi sembra che il comportamento della casa di riposo Maria Ausiliatrice anche rispetto ripeto all'ultima conversione di cui stiamo discutendo che dobbiamo decidere mi sembra che vada nella direzione giusta e quindi sono favorevole alla proroga. Per quanto riguarda gli ordini del giorno sul primo quello dell'allocazione richiedente asilo il nostro voto è decisamente contrario c'è un atto che Maria Ausiliatrice ha fatto con un'associazione che si occupa e non vedo perché questa questione debba essere sottoposta se non per il fatto al solito che sono i migranti e quindi quando ci sono i migranti la Lega vede nero e quindi il nostro voto è contrario sull'altra questione è evidente che c'è e ha poco senso dal punto di vista giuridico e amministrativo un ordine del giorno che proponga di dare un indirizzo che non si sa bene che valore giuridico possa avere al suo tempo quando ci saranno i progetti esecutivi e tornerà al Consiglio Comunale tutta la questione valuteremo di volta in volta quali sono le opere che la Casa di Poso Maria Ausiliatrice deciderà di porre in essere quindi riservo il mio voto o la mia decisione se ci sarò ancora per quando ci saranno quei provvedimenti Grazie la parola al Consigliere Ota Grazie Presidente Allora innanzitutto esprimo a nome del gruppo Consigliere PD il parere favorevole a questo atto integrativo dell'accordo di programma perché mi sembra che nello specifico venga offerta alla città e non solo una struttura di sicuro interesse e di grande necessità quindi veramente un plauso alla fondazione che si indirizza in questa direzione per quanto riguarda invece i due ordini al giorno ritengo che il primo non sia puramente strumentale e quindi non ha nulla a che vedere con la delibera che andiamo a provare potrebbe essere presentata in altra forma in un altro contesto non in questo quindi per quanto mi riguarda questo io voterò contrario e il secondo ordine al giorno pur capendone le finalità ritengo appunto che come ha detto la Sra. Zenoni non sia questo il momento di discutere una revisione e porre dei paletti che verranno presi su mente quando verrà presentato una una revisione a questo piano integrato per cui questo programma per cui diciamo i due ordini al giorno per quanto mi riguarda sono voto negativo la parola è consigliere grazie presidente ma scopriamo la trasparenza a giorni alterni da parte della maggioranza questa delibera parla senza dubbio di una questione importante l'ampliamento dell'egleno al quale noi daremo voto favorevole però è altrettanto evidente come all'interno di questo plesso di cui il comune è parte attiva visto che la fondazione è nominata dal sindaco di Bergamo per una parte del CDA e del collegio dei revisori e ci sembra quindi giusto fare un collegato proprio su queste due tematiche la prima quella relativa appunto alla trasparenza e riguarda in particolare la presenza dei richiedenti asilo infatti non dimentichiamoci che l'estensione del gleno era ed è collegata alla vecchia struttura che attualmente ospita i richiedenti asilo e che avrebbe dovuto essere abbattuta quindi è un ordine del giorno tra l'altro assolutamente tranquillo è un ordine del giorno assolutamente anche troppo mi dice il collega di Fratelli d'Italia quindi è un ordine del giorno che chiede semplicemente dati e trasparenza e l'abbiamo fatto proprio perché si parla in questo caso dell'estensione del gleno sapendo che c'è una parte che avrebbe dovuto essere abbattuta e che invece non lo è e che fornisce alla fondazione degli introiti visto che la fondazione non fa totalmente beneficenza ha un affitto per la locazione di quei locali appunto a circa da quanto ci dicono 300 richiedenti asilo e quindi ci sembrava giusto e ci sembra giusto chiedere queste informazioni al sindaco abbiamo preso questa occasione proprio per farlo l'altro ordine del giorno riguarda invece un aspetto del quale la Lega da sempre si batte ovvero la salvaguardia insomma delle visuali della città e quindi un ordine del giorno di tipo tecnico che auspicavamo potesse avere l'approvazione da parte di questo consiglio comunale è evidente che non c'è sensibilità neanche su questo punto sulla questione della trasparenza l'ho già detto è sempre a tratti alterni la parola al consigliere mi grazie presidente noi su la delibera abbiamo una posizione favorevole anche in commissione abbiamo votato favore credo che questa istituzione sia una istituzione importante fondamentale per la città di Bergamo fondamentale per la storia che ha per la missione che ha all'interno della nostra città e per le risposte che cerca di dare ai bisogni di una larga parte della nostra popolazione cittadina quindi questa opera di investimento su un'istituzione così importante ci vede favorevoli credo però che i due ordini del giorno presentati dalla collega Pecce abbiano una loro dignità e anche un loro senso e provo a spiegare il perché quindi la premessa è che la nostra posizione ha questo tipo favorevole ma credo che i due ordini del giorno abbiano una loro significanza ricordo perché è stato detto da qualche collega consigliere nel suo intervento che l'ordine del giorno ha una valenza di impegno passata in termini quasi più morale nel senso che non è una delibera che indica con precisione un'attività amministrativa ma è un impegno che questo consiglio e questa amministrazione si prende in una direzione quindi si impegna a analizzare studiare portare avanti nell'essere opportuno ciò che questo consiglio reputa importante e porre l'attenzione sulla qualità del nuovo edificato che andrà a sorgere nel gleno sull'attenzione a tutela paesaggistica sulla compatibilità tra l'intervento e l'ambiente prestigioso in cui si trova quest'opera dicendo cara amministrazione impegnati a far sì che quando si andrà a discutere sul progetto operativo insieme ai responsabili di questa istituzione si pongano una particolare attenzione a far sì che questo intervento sia compatibile con il contesto ambientale mi sembra che ci possa stare non dice gli edifici devono essere alti 10 metri 10 metri larghi 30 metri digola 23 dice caro consiglio caro amministrazione il consiglio ti invita a porre attenzione a questo intervento e a far sì che anche chi poi effetturrà l'intervento presse una particolare attenzione o un occhio in più che già ha sulla compatibilità ambientale quindi il nostro voto su questo ordine del giorno dal consiglio della pace è favorevole così come è quello sul discorso richiedente asilo noi quando ci fu la decisione di accoglierli in quella struttura venimo il consiglio e ponemmo la questione in maniera molto forte abbiamo reputato che non fosse la struttura ideale dove alloccarli so che anche all'interno del consiglio di amministrazione dell'allora consiglio di amministrazione della fondazione fu una discussione e mi è sembrato di capire che il consigliere allora che c'era nel consiglio di amministrazione che pose questa questione fortemente dicendo di essere d'accordo fu poi quasi marginato dal CDA tanto è vero che non fu assolutamente preso in considerazione per una sua rinomina perché appunto aveva spesso questa posizione quindi ci fu qualcosa di politico lì dentro ribadire che quel luogo non è reputato a questo file secondo me è in linea con quello che è la nostra posizione ed è in linea con quello che è la finalità la mission di quella fondazione di quel posto per cui credo che siano due ordini del giorno accoglibili e devo dire anche in linea con quello che può essere il futuro di questo intervento per cui il nostro voto anche sugli ordini del giorno presentati dal collega Peccio e collegati sarà favorevole la parola si è Zenoni Presidente anche io molto brevemente ribadisco il voto favorevole che abbiamo espresso in commissione sulla sua delibera proprio perché riconosciamo l'importanza di questa iniziativa dei 7.000 metri quadri stralciati dei 33.000 residenziali a fine appunto di costruire questa struttura della cura dell'Alzheimer e abbiamo appunto ben colto anche l'idea l'accordo di prorogare per dare un respiro all'iniziativa in merito invece agli ordini del giorno presentati dalla collega Pecce più sinteticamente rispetto a quello che ha detto il collega Minuti anche noi siamo effettivamente a favore non fosse altro che prima di tutto perché si chiede nel primo caso un'informativa di produrre un'informativa quindi è un atto come è stato detto di trasparenza e poi perché è l'occasione proprio perché se ne è parlato anche in commissione è vero che l'argomento è leggermente diverso da quello di natura urbanistica però sappiamo bene che sono passati qualche anno e la situazione di questo stabile sembra che si sta legando sempre di più al numero e alla durata della permanenza temporale dei richiedenti asilo a netto che possiamo anche essere favorevoli però questo ha quindi anche un impatto su come viene gestito e come verrà gestito in futuro questa porzione di comparto urbanistico per cui l'idea di chiedere come mai appunto ricordiamoci che da 100 sono diventati nel frattempo 300 e quindi occupano sempre più spazi quindi c'è una necessità di dover garantire a queste persone uno spazio quindi sempre di più potrà rimanere questa esigenza di passare in termine vincolare l'edificio che altrimenti era in disuso e quindi siccome stiamo parlando comunque di una porzione di trasformazione del gleno l'idea di chiedere di produrre un'informativa poteva anche essere colta altrettanto favorevolmente recepiamo anche l'altro ordine del giorno sulla visuale proprio perché ha un'indicazione di indirizzo non penso che possa vincolare più di troppo il progetto che c'è stato tra l'altro presentato con dei render di massimo una sorta di master plan perché mi sembra che gli stessi render che sono stati presentati potevano in parte già soddisfare la richiesta per cui anche il fatto di esprimere le indicazioni di indirizzo ci trova favorevoli grazie la parola la consigliera Pecci per quanto riguarda il progetto noi siamo favorevoli perché riteniamo che una nuova soluzione una nuova funzione di tipo assistenziale così come viene presentata sia utile in quanto risponde a degli evidenti necessità e oltretutto risponde anche a un mercato e risponde anche a una a una prospettiva futura quindi siamo siamo d'accordo su questo quello che volevo sottolineare attraverso i due ordini del giorno sono primo quello che riguarda la sensibilità che si è andata quando rispetto all'ambiente e rispetto al paesaggio perché mentre prima si pensava soltanto a salvaguardare un determinato tipo di ambiente o di paesaggio adesso io sottolineo che anche la ampiezza la cerchia delle montagne l'aspetto di pianura con lo sfondo della montagna va salvaguardato oltre ovviamente a quelle classiche visuali che sono città alta dall'alto e dal basso quindi siccome abbiamo visto anche in passato quali erano i progetti sul tema su questo naturalmente io ritengo giusto quest'ordine del giorno per quanto riguarda invece il la locazione dei richiedenti asilo io dico bene non volete darci una risposta qui mi sembra che sia avete voi la coda di paglia adesso a questo punto io farò un accesso agli atti avrò tutte le mie risposte ma non avrà tutto insieme il consiglio e invito anche l'assessore Marchesi affinché in una speciale commissione o qui magari avremo anche qualcos'altro da discutere ci esponga la situazione di tutta la realtà dell'accoglienza nella città di Bergamo quindi sono molto dispiaciuta che ci sia stato un apprezzamento negativo da parte della maggioranza un suggerimento da parte dell'assessore a bocciare questi ordini del giorno che come giustamente è stato detto sono estremamente urbani e hanno una loro logica al di là delle ideologie e la logica è quella della trasparenza e della salvaguardia paesaggistica e urbanistica grazie interventi metto in votazione la delibera numero 115 grazie Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. voti a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passiamo. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. sono stati emessi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.